Ciao a tutti, oggi sono qua per consigliarvi 5 titoli Bao per approfittare al meglio del 25% di sconto su tutto il catalogo Bao che ci sarà fino al 21 di aprile. Su Instagram ho già iniziato una serie, ovvero ti consiglio un Bao in cui appunto vi ho consigliato dei titoli sia recenti che magari un po' più vecchi. Oggi però vorrei concentrarmi sulle ultime uscite, ovvero tutti i fumetti di cui vi parlerò oggi sono usciti nell'ultimo anno. Se siete quindi dei fan accaniti di fumetto, probabilmente questi fumetti ancora non ci sono nella vostra collezione. Il primo titolo che mi sento di consigliarvi è Soul Guide di Golo Zhao. Questo fumetto ha un prezzo di copertina di 19€ e fa parte della collana cinese di Bao, chiamata appunto Bao, ovvero tesoro. Si tratta di una raccolta di storie collegate fra loro dalla guida di anime. Tutte queste storie parlano quindi di morte, di lutto, di sofferenza e nonostante siano tematiche abbastanza toste c'è sempre una via d'uscita, c'è sempre un messaggio molto positivo e di speranza. Ed è uno dei motivi che mi ha fatto amare quest'opera perché nonostante sia molto emozionante, faccia piangere tantissimo, non provi tristezza leggendo queste pagine ma rimani diciamo sollevato. Si affronta il tema della morte in maniera secondo me molto delicata, in certi punti anche poetica. Quindi nonostante sia qualcosa di inevitabile nella vita di tutti noi, diciamo che in questa raccolta si cerca di dare un senso a questo avvenimento. Comunque a parte questo ho trovato tutte le storie veramente molto belle sia dal punto di vista visivo perché lo stile è veramente molto delicato e raffinato come la narrazione. Ci sono dei colori molto molto belli, le storie sono ambientate in Cina quindi si ha uno spaccato diciamo anche sugli ambienti di questo paese. Una cosa che apprezzo tantissimo perché non conosco molto. Come vi dicevo si parla di morte, in particolare di persone molto care ai personaggi di questa storia e in un certo senso si cerca di sottolineare l'importanza del tempo che abbiamo da passare con queste persone. Magari è una cosa che spesso diamo per scontata, ci diciamo sempre ho tempo, c'è tempo eccetera eccetera ma non sappiamo quanto tempo ci rimane effettivamente da poter passare con le persone a cui vogliamo bene. Quindi dovremmo cercare di sfruttare al massimo il tempo che abbiamo per stare con loro. In realtà tutti i fumetti della collana cinese di Bao meritano, questo in particolare è un posto molto speciale nel mio cuore anche perché l'ho letto in un periodo particolare. E coincidenza strana mi ha ricordato per certi versi i racconti dei vicoletti. Altro titolo molto molto carino e delicatissimo che parla di una bambina disabile e di suo nonno che cerca in tutti i modi di tirarla su di morale e di farla divertire tanto. E anche quel fumetto l'avevo letto in un periodo purtroppo molto simile a questo e mi pare una perfetta combo quindi eventualmente se avete già letto i racconti dei vicoletti questo vi piacerà sicuramente. Altro fumetto che voglio consigliarvi è Papaya Salad di Elisa Macellari, ha un prezzo di copertina di 21€ ed è ispirata ad una storia vera ovvero quella dell'autrice. La storia parla di Son Pong, inizialmente in Thailandia, cresce, è un ragazzo con grandi aspirazioni e sogni che lo porteranno poi a viaggiare fino all'Europa. Il tempismo però non è dei migliori perché appena arriva in Europa scoppia la guerra. Mi piace tantissimo la palette di colori di questa storia perché penso che ricordi tantissimo un paese esotico e per certi versi rende la storia anche un po' magica e onirca, come se stessimo leggendo una favola invece che una storia vera. Tra l'altro c'è una grandissima cura al dettaglio perché la storia è divisa in capitoli e ogni capitolo inizia con gli ingredienti della Papaya Salad e il fumetto stesso graficamente ricorda il frutto, nei colori, insomma, pazzesca questa cosa. Tornando però alla storia, sono rimasta molto colpita perché innanzitutto si tratta di una storia ispirata ad una vita vera. E questo secondo me si percepisce, anche se non ci fosse stato scritto all'inizio dell'opera, si percepisce tantissimo che è qualcosa di vero, di tangibile. La storia si basa principalmente sui sogni e le aspirazioni del protagonista e noi le viviamo un po' assieme a lui. Questo viaggio poi incredibile che fa dalla Thailandia all'Europa in un periodo in cui non era così facile come oggi spostarsi, poi in un posto totalmente diverso da quello delle sue origini, trovarsi appunto in una realtà totalmente diversa e dover affrontare la guerra. Se vi piacciono i viaggi sia fisici che un po' metaforici, sicuramente quest'opera fa il caso vostro e soprattutto se vi piacciono le storie un po' esotiche. Un altro fumetto di recente pubblicazione che voglio consigliarvi è Morderabiglia di Alvaro Ortiz. Prezzo di 17€ è un fumetto che se ben vi ricordate non mi ha convinta al 100%, ma ve lo consiglio perché è secondo me qualcosa di molto diverso e particolare che merita una letta. Innanzitutto la storia si basa sulla vita di un ragazzo un po' annoiato dalla vita, non studia, non lavora, vorrebbe scrivere un libro ma non ha mai scritto una parola in vita sua. Capita però che muore lo zio e gli lascia diciamo in eredità i suoi due gatti. Questi due gatti troveranno poi una casa e il nostro protagonista dovrà fare un viaggio assieme a queste creaturine che cambierà diciamo molto radicalmente la sua vita e forse troverà una storia che valga la pena di essere scritta. Ciò che mi è piaciuto fin dal subito di questo fumetto è che tratta un hobby molto particolare che ha a che fare con il crime. È qualcosa di cui magari non si sente parlare spesso, quindi la particolarità di questa passione che poi porterà il protagonista a cambiare la sua vita mi ha intrigato particolarmente proprio per interesse mio. Inoltre in questa storia ci sono due gattini che sembrano tanto carini e coccolosi ma in realtà non lo sono più di tanto. È una storia secondo me aperta a diverse interpretazioni. Io in particolare ci ho letto una forte voglia di sconvolgere la propria vita da parte di un personaggio che non sa bene che cosa fare della sua vita, più o meno la mia età. Quindi è un sentimento abbastanza comune nelle persone che appartengono alla mia generazione. Non sapere che cosa fare della propria vita, non avere ben chiaro lo scopo che ci spinge ad andare avanti. E questa voglia di trovare una storia da scrivere, di trovare qualcosa di interessante spinge il protagonista a degli eventi anche estremi. Quando sono stata alla presentazione di questo fumetto l'autore ha confessato di essere molto divertito dalle varie interpretazioni dei suoi lettori. Soprattutto per quanto riguarda ad esempio il ricercare delle informazioni che vengono fornite in questo fumetto. Perché alcune si basano su eventi veri, delle informazioni reali, altre cose invece se le è inventate. Quindi ha raccontato che rimane sempre molto divertito dalla curiosità dei lettori nel voler cercare di capire che cosa c'è di vero e che cosa no. È una lettura molto bizzarra. Io personalmente ve lo consiglio se state cercando qualcosa di completamente diverso dal vostro solito. Altro fumetto da recuperare assolutamente è Kids with Guns di Capitano Artiglio. Questo è il secondo volume perché il primo ce l'ho a casa dei miei genitori. Sono usciti per adesso appunto due volumi di questa serie che se non sbaglio sarà una trilogia. Il prezzo di copertina è di 20 euro e come potete immaginare dalla copertina si tratta di una storia un po' futuristica ambientata in un mondo western con delle ispirazioni un po' anni 80. Di mezzo ci sono anche i dinosauri quindi è un mix di vari elementi che forse non vi sarete mai immaginati assieme ma che incredibilmente funzionano e anzi hanno creato una storia secondo me pazzesca. Perché il primo volume mi è piaciuto sì ma questo secondo è una bomba. Comunque non vi farò alcun tipo di spoiler. Si parla di gang, di fuorilegge, di magia, di poteri particolari, immortalità, lotta al potere ma anche famiglia. Famiglia proprio in senso allargato. A me piacciono da impazzire i disegni di quest'autore. I dinosauri che crea sono pazzeschi. Sono ispirati un po' a delle specie magari documentate di cui appunto si sa qualcosa, altre sono inventate. Alla fine in particolare di questo secondo volume, magari ve la mostro perché non si tratta comunque di spoiler o altro. Questo fumetto fa parte di un'edizione arricchita per i dieci anni della casa editrice. Ecco qua, come vedete queste sono tutte teste di dinosauri. Come vi dicevo si ispira a delle specie esistite e altri sono di sua invenzione. In particolare cerca di arricchire appunto le teste di questi dinosauri creando sempre qualcosa di particolare e a volte grottesco. Tornando alla storia, il primo volume è senza dubbio molto introduttivo. Pone le basi per quello che verrà dopo e infatti questo secondo fumetto è veramente decollato. Ci sono momenti un po' più emozionanti in cui si parla di legami, senso di appartenenza, necessità di avere una famiglia, di avere degli affetti, delle persone care. C'è anche molta azione, lotta fra bande rivali per conquistare terreni, potere eccetera eccetera. Secondo me è un mix che funziona perfettamente. Ci sono degli elementi un po' tra virgolette antichi perché il mondo ricorda tantissimo il vecchio West, ci sono poi i dinosauri, però è tutto reso in maniera molto moderna, anzi futuristica. Tra l'altro in questa seconda copertina c'è un'ambientazione molto da sala giochi, meraviglioso, ho amato tantissimo questa parte nel fumetto in particolare, top. Comunque vabbè, si vede che sono abbastanza funny in questo senso, è un fumetto secondo me mai visto prima. Come vi dicevo per adesso sono usciti due volumi quindi andate a recuperarli. L'ultimo fumetto che voglio consigliarvi è uscito se non sbaglio un paio di settimane fa ed è Sfera di Alba Ilongo. Questo fumetto ha un prezzo di 20 euro e vede per protagonisti due giornalisti molto insoddisfatti del loro attuale impiego. Lei in particolare ha sempre desiderato lavorare nel mondo della moda, lui invece scopre di avere un potere molto particolare, riesce a creare dal nulla delle sfere per l'appunto. E pensa che questo sia un potere diciamo inutile perché non riesce a trovare un modo per sfruttarlo degnamente. Perché pensa ad esempio i supereroi in genere salvano gente con i loro poteri, lui non riesce a farci nulla di utile apparentemente. Perché infatti quando incontra questa ragazza gli viene la brillante idea di sfruttare questo suo talento, diciamo questo suo potere, per creare delle vere e proprie opere d'arte. Quindi formano quindi un duo e si lanciano nel campo dell'arte. Inseguono quindi un po' i loro sogni, le loro vere e proprie aspirazioni, ma scoprono ben presto che non è tutto facile, come sembra. Riescono quindi a buttarsi alle spalle un lavoro fatto per necessità e dedicarsi invece ad una loro passione. Però anche in questo senso si può rischiare di ricadere in una routine e in atteggiamenti che potrebbero far perdere di vista loro il vero scopo di tutto questo. La storia è decisamente particolare perché unisce una storia abbastanza comune di vita quotidiana di due ragazzi che cercano di farcela con le loro forze, di trovare un modo per non semplicemente sopravvivere, ma vivere appieno le loro vite, trovare un lavoro di cui sono effettivamente soddisfatti, con qualcosa invece di un po' più... non so bene come definirlo, perché alla fine uno dei personaggi ha appunto questo potere particolare, crea delle sfere. L'unica cosa che mi ha lasciato un po' perplessa è che secondo me finisce sul più bello questo fumetto, però al di là di questo è un fumetto che magari parte un pochettino a rilento, piano, ma poi si sviluppa sempre di più verso qualcosa di intrigante. Si parla di arte, passioni, le vere vocazioni che ci spingono comunque ad andare avanti con le nostre vite, di relazioni, rapporti con altre persone. Un fumetto secondo me molto attuale che potrebbe piacere a tantissimi miei coetanei, quindi ve lo consiglio, in particolar modo se state cercando una storia che abbia a che fare un po' con il mondo dell'arte. Questi erano quindi i fumetti che volevo consigliarvi oggi fra le ultime uscite di Bao, fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete già recuperato uno di questi titoli, fatemi anche sapere se vorreste un altro video di questo genere in cui vi consiglio altri titoli Bao, magari collegati da un genere o da una tematica. Se però non volete aspettare il prossimo video, qua sotto in descrizione trovate il link innanzitutto ai precedenti post che ho realizzato sul blog, in cui vi consiglio dei titoli ovviamente differenti da questi, sempre del catalogo Bao. In più sul mio account Instagram che è sempre chibistheway, lo trovate elencato qua sotto, fra i contenuti in evidenza trovate Ti Consiglio un Bao, altri consigli differenti da quelli di oggi e differenti da quelli del blog fra cui potete spulciare. Se avete già approfittato degli sconti mi raccomando fatemi sapere qua sotto che cosa avete acquistato. Io spero che il video possa esservi utile e ci vediamo alla prossima. Ciao!